allora siccome oggi non ho fatto video perché il 25 di aprile e l'ho preso come vacanza bella raga come va ho deciso che domani alle 2 facciamo una diretta facebook attenzione pazzesco quindi ho deciso c'è la diretta facebook e basta niente di che non è nulla di che però c'è un po di musica che non passo non riesco a passare al radiomo collab che volevo farvi ascoltare quindi saremo qua nel basement alle 2 per passare così un po di tempo assieme per far sì che i social possano essere realmente oggetto di scambio o poi se avete delle domande da fare sotto scrivete tutto quello che volete così almeno iniziamo già a capire quali sono gli argomenti che possono essere di scambio senti qua di angelo insieme a red man e method man questo è di angelo eh senti che voce e lì suona la chitarra mentre canta eh insieme a rất ecc insieme a